Weekend dedicato ai motori sul mio canale sportivo, oggi con il video di presentazione della Superbike e delle altre categorie visto che tra una settimana ci sarà l'inizio del campionato di moto derivate dalla serie mentre domenica ci sarà il Racing Podcast sulla MotoGP Gran Premio di Le Mans oggi però ci concentriamo sul campionato di moto che io preferisco ovvero la Superbike, appunto le moto derivate dalla serie che con la stagione 2021 arrivano alla 34esima edizione una stagione che ha subito già tante modifiche in corsa ancora prima della partenza si doveva partire in origine ad Assen a inizio aprile alla fine il calendario prevederà 13 competizioni di cui 4 in Spagna e 2 in Portogallo è di fatto un campionato iberico con qualche tappa qua e là tra Italia, Olanda, Gran Bretagna, Francia, Repubblica Ceca e anche il continente asiatico con l'Indonesia che sarà l'ultima prova prima dell'Argentina, circuito di San Juan si parte il 22-23 marzo ad Aragon nel format che ormai da due anni va a regnare in Superbike ovvero due gare lunghe, quella del sabato pomeriggio e della domenica pomeriggio con in mezzo alla domenica mattina la sprint race di 10 giri per determinare la griglia di gara 2 c'è un appuntamento in Italia ed è questo del 12-13 giugno al circuito di Misano Adriatico il World Circuit e Marco Simoncelli dove tra l'altro normative Covid permettendo e zone gialle resistendo io sarò presente dal vivo per vedere direttamente la gara dei miei beniamini della Ducati e non solo in questo appuntamento italiano il terzo della stagione 12-13 giugno dunque in quello che sarà poi anche il Gran Premio di San Marino della MotoGP a inizio a settembre aspettatevi per il post gara di Misano più che un video tradizionale del mio canale un bel vlog con la due giorni della moto derivata dalla serie è un campionato di Superbike che ancora una volta ha un tema molto interessante ovvero la caccia al titolo numero 7 consecutivo del cannibale Jonathan Ray e ovviamente del duello tra il nord irlandese e la Ducati prevalentemente l'ufficiale sulla carta con appena dietro il team Go11 è comunque dicevo un calendario molto fitto quello della Superbike che appunto andrà dal circuito di Aragon 22-23 maggio fino alla chiusura in Indonesia al nuovo circuito del Mandalika International Circuit che chiuderà appunto l'appuntamento in 13-14 novembre non c'è Phillip Island che doveva essere l'appuntamento di chiusura viene appunto sostituito dal circuito indonesiano ci sono addirittura quattro tappe spagnole tra cui l'esordiente circuito di Navarra circuito che in realtà spesso veniva associato al CEV c'è un esordio assoluto invece per l'autodromo di Most il 7-8 agosto che è un'aggiunta al calendario della Superbike che dunque non va a Brno che peraltro si è escluso dalla MotoGP e ci sarà dunque questo nuovo autodromo in Repubblica Ceca 13 tappe dunque per la Superbike per questi piloti sono di fatto 24 i piloti presenti in griglia con appunto il favorito numero 1 che non può che essere il numero 1 in questo momento del campionato ovvero il cannibale Jonathan Ray che ha già vinto 6 titoli di fila e va per il settimo e nei primi test stagionali il cannibale ha effettivamente evidenziato un gran passo battendo anche i record della MotoGP i testi sono tenuti proprio ad Aragon il circuito che inaugurerà il Mondiale è ovvio che il team Kawasaki ufficiale che si concentra soltanto sul campionato delle derivate dalla serie prevalentemente sulla Superbike in particolare è la netta favorita e la coppia alla fine è confermata rispetto allo scorso anno con appunto primissimo pilota Jonathan Ray secondo pilota Alex Lohs fratello gemello di Sam che comunque può togliersi diverse soddisfazioni in questa stagione cercando però di migliorare il piazzamento dello scorso anno che lo ha visto protagonista anzi che no ma è ovvio che i fari sono puntati su Jonathan Ray che appunto ha dimostrato sui test di essere una spanna avanti già alla Ducati che comunque non parte battuta certo per battere un pilota così costante come il cannibale ci vorrà la miglior Ducati ufficiale una Ducati ufficiale che peraltro schiera gli stessi piloti appunto dell'anno scorso con una sola novità viene sostituito Chas Davis con Michael Rinaldi che ha fatto tanto bene con la Ducati del team Go11 dunque questo li va a come dire ottenere la promozione alla Ducati ufficiale in coppia con quello che verosimilmente sarà il contender principale del cannibale Jonathan Ray ovvero Scott Redding un pilota che in MotoGP ha fatto abbastanza fatica è andato nel British Superbike l'ha vinto con Ducati e l'anno scorso con Ducati ha fatto molto bene per le sue potenzialità peccato aver appunto subito molta incostanza cosa abbastanza anche tipica del pilota inglese che spesso sotto pressione ha sbagliato e abbiamo visto anche l'anno scorso con diverse cadute di troppo Scott Redding comunque può dare tanto spettacolo in pista deve imparare a essere magari un po' più conservatore meno aggressivo come la sua natura in ogni caso sarà un duello molto interessante certo Ray è ancora il favorito ma Scott Redding di certo non parte battuto così come tutta la Ducati ufficiale del team Aruba c'è un'altra Ducati in realtà che può essere competitiva ed è questa quella del team Go11 che l'anno scorso di fatto pur essendo una moto privata o semi ufficiale diciamo ha dato tante soddisfazioni al team italiano e a Michael Rinaldi qui c'è stato di fatto uno scambio perché appunto dalla Ducati ufficiale è uscito Chad Davis al posto appunto di Rinaldi che è andato al posto del Gallese un pilota che a me piace tantissimo e che spero possa essere competitivo con questa moto e che sarà peraltro una moto semi ufficiale di fatto anche questa il dragone come lo chiamo io merita di essere in superbike anche questa stagione e ha già dimostrato di adattarsi molto bene a questo Ducati del team Go11 che appunto non è un ufficiale ma può essere quasi qui parata ad essa mi aspetto con questa moto un Chad Davis importante un Chad Davis che poteva secondo me ambire il mondiale tempo fa quando era lui il contender di Jonathan Ray certo è difficilissimo in questa situazione ma qualche situazione secondo me il dragone se la può togliere di certo è quasi ovvio che appunto le due ufficiali primari ovvero Kawasaki e Ducati avranno tanto spazio per lottare tra di loro lasciando purtroppo le bricele agli altri ufficiali in particolare Honda BMW e Yamaha ed è proprio della Yamaha ufficiale di cui andiamo a parlare di cui comunque c'è da dire perché c'è un pilota molto importante anche per la Yamaha che è Toprak Rasgatioglu sicuramente il talento del futuro della Superbike un pilota che a me piace tantissimo che ha già dimostrato comunque di essere un pilota sul pezzo quando correva con la Kawasaki i clienti del team Puccetti è andato in Yamaha ufficiale qualche soddisfazione anzi più di qualche soddisfazione se l'è tolta vincendo anche qualche gara facendo qualche podio certo anche lui al momento non è così costante ma ripeto battere questo Ray che è uno dei piloti più costanti del Circus veramente fai fatica Rasgatioglu è il pilota di punta della Yamaha ufficiale non potrebbe che essere altrimenti sarebbe fantastico nei miei giorni avere un duello a tre tra appunto Reading Ray e il Turco sperando magari che per una volta non vinca il nordirlandese compagno di squadra di Toprak Rasgatioglu è Andrea Locatelli che ha dominato la scorsa stagione in Supersport dimostrandosi un pilota di una categoria differente rispetto a quella Moto2 Moto3 della categoria dei prototipi dove effettivamente faceva oltremodo fatica soprattutto nella classe di mezzo della Moto2 effettivamente Locatelli è stato un crack nell'unica stagione di Motorsport che ha fatto nelle derivate della serie e qui effettivamente ha già una chance in una Yamaha ufficiale scusatemi dove effettivamente non sarà facile confrontarsi con Rasgatioglu certo nella migliore delle ipotesi vedo un Locatelli in Top 5 nella migliore delle condizioni bisogna vedere però come si presenteranno quelli della casa dei tre di Apazon obiettivamente in pista quarta ufficiale in pista è la Honda che schiera due moto ancora una volta ufficiali confermando i piloti dell'anno scorso Alvaro Bautista che dopo Ducati è andato in una moto inferiore che comunque può ambire una top ten con costanza e Leon Aslam che spesso e volentieri è stato anche migliore di quell'Alvaro Bautista che in Ducati sembrava veramente l'unico in grado all'inizio di battere Rey nella stagione 2019 invece Pocket Rocket nonostante un'esperienza incredibile si ritrova a essere probabilmente l'anno scorso la migliore delle Honda considerato appunto che la casa giapponese di fatto ha corso con due sole moto perché il team Mie probabilmente l'anno scorso non l'abbiamo visto e difficilmente lo vedremo anche quest'anno vista appunto la struttura del team giapponese la Honda è una moto abbastanza incoita così come l'altro ufficiale di cui andremo a parlare tra poco sarà importante vedere appunto i suoi progressi come sarà importante vedere i progressi della BMW una BMW che schiera quattro moto ma il team ufficiale è una delle coppie che a me intriga molto perché al fianco di Tom Sykes mister super pole della super bike il pilota che in carriera ne ha accumulati di più che sono 49 si affianca a un pilota che a me piace tantissimo che è Michael Van der Mark che l'anno scorso è stato messo in ombra da Toprak Rasgatio Gluin Yamaha ufficiale dunque ha cambiato casacca andando in quello ufficiale che sul giro secco ha già dimostrato di essere una moto molto interessante la casa tedesca di Monaco invece in gara appena anche un motore abbastanza deficitario rispetto alle altre case ha fatto oltremodo fatica e ha raccolto veramente le briciole se non appunto qualche podio sporadico ma addirittura nella stagione 2019 il 2020 il podio e la Top 5 raramente la BMW la vista e anzi spesso la vedeva col binoculo Van der Mark e Sykes veramente sono due piloti che mi piacciono tantissimo mi aspetto anche una volta un Tom Mone Sykes sul pezzo per quanto riguarda la ovviamente super pole e le qualificazioni se la BMW avrà modo di sviluppare il motore attenzione perché potremmo anche una volta parlare di una casa motoristica in Top 5 con costanza dando magari fastidio alla Honda sicuramente chissà magari alla Yamaha e potrebbe essere un discorso che può applicarsi anche alla Yamaha clienti una Yamaha cliente del team GRT che conferma la grande sorpresa dell'anno scorso ovvero il pilota statunitense Garrett Gerloff un rookie d'anno scorso che ha veramente stupito con anche due poti in stagione battendo spesso anche le Yamaha ufficiali al pilota statunitense si chiede ancora una volta il salto di qualità nella speranza l'anno prossimo di arrivare su una moto ufficiale viene affiancato a lui con l'audatore Yamaha Kota Nozane all'esordio in Superbike in questo team clienti andiamo a vedere chi sono gli altri piloti per completare la griglia di partenza andando in ordine secondo la grafica di Wikipedia inglese rimaniamo in casa di Yamaha perché rientra il team Alster che schiera Christophe Ponson pilota francese che l'anno scorso fece qualche wildcard con Aprilia la Kawasaki clienti in particolare il team Orlac Racing schiera Isaac Vinales che è il cugino di quel Maverick che è il MotoGP in questo momento con Yamaha ufficiale il team Mie che non dovrebbe essere un grosso fattore schiera Leandro Mercado un grande esperto di Superbike il pilota argentino deve essere ancora annunciato tuttavia il secondo pilota sono invece molto curioso di vedere questo ragazzo qui in Superbike ovvero Lucas Maia uno dei miei piloti preferiti della Supersport che purtroppo ha vinto meno di quanto il talento suo aveva espresso nel passato è vero ha vinto il Mondiale Supersport battendo peraltro Canan nel passato poi non si è mai più ripetuto su quei livelli l'anno scorso contro Locatelli poteva far poco è arrivato secondo nel titolo del mondo e qui adesso è in Superbike con un team clienti storico ovvero il team Puccetti c'è un altro italiano in gara oltre Michael Rinaldi ed è Axel Bassani anche lui che viene dalla Supersport qui schiagato con Ducati il team Motocorsa Racing che l'anno scorso invece aveva mercato Eugene Laverty rimane in Superbike con la prima delle due BMW clienti del team RC Squadra Corse tra l'altro Laverty è stato protagonista di un inconveniente abbastanza strano nei test di Barcellona i primi test della Superbike di fatto la squadra non si è presentata Laverty invece era in circuito e di fatto è rimasto a piedi ancora prima di cominciare in realtà il campionato lo farà e sarà interessante vedere come si comporterà il pilota irlandese sulla BMW clienti che è una novità appunto perché l'anno scorso la casa tedesca aveva soltanto due moto quelle ufficiali ovvero quelle appunto dello stesso Laverty e di Tom Sykes Tito Rabat dopo le comparsate che farà in MotoGP Alemane ha già fatto in Spagna di fatto trova il posto in Superbike dopo appunto una stagione abbastanza interlocutore l'anno scorso con Ducati era nel team Avintia e arrivava praticamente sempre ultimo qui in Superbike potrebbe fare meglio ma per meglio intendo zona punti con costanza vedremo appunto come si comporterà il pilota spagnolo ultimo italiano quanto meno dei piloti regolari in corsa qui andiamo sul team di Pedercini e Samuele Cavalieri che l'anno scorso fece qualche comparsata con la Ducati Barney che appunto qui in Voceschiera Tito Rabat confermato invece in Superbike Loris Cresson pilota belga chiude l'elenco della Superbike veramente sfortunato perché causa appunto la sindrome di Gilbert è andato appunto in riabilitazione ha perso diverso tempo nelle corse di un pilota che comunque era arrivato al top in MotoGP arrivando addirittura a podio qui riparte dalla BMW che come mossa di marketing comunque ci vede molto lungo perché il pilota tedesco su BMW qui di moto tedesca può essere assolutamente importante peraltro Folger corre con lo stesso team con cui ha dominato la Superbike tedesca dunque è una continuità per il pilota tedesco che dunque sono veramente contento di rivedere al via in un campionato veramente competitivo come la Superbike non mi aspetto in realtà con la sua prestazione fin da subito sarebbe bellissimo vedere anche solo la metà di quello Jonas Folger che appunto arrivò al podio in MotoGP questi dunque sono i piloti della Superbike dunque abbiamo completato quella che è la presentazione e quelli che sono diciamo i piloti in astri di partenza prima dell'inizio del campionato che sarà il 22-23 maggio ad Aragon ci sono però altre categorie che vanno a competere con la Superbike che sono la Supersport e la Supersport 300 le presentiamo brevemente anche loro la Supersport sarà sempre al fianco della Superbike tranne in un appuntamento quello di Donington che sarà riservato soltanto alla Superbike le 600 invece avranno dunque 12 gare dove verranno disputate due manche distinte per un totale di 24 competizioni su obiettivamente 12 e 20 ci sono tantissimi piloti interessanti 22 regolari in più quelli anche dell'europeo che vedremo soltanto appunto nelle gare del nostro vecchio continente chi possono essere i favoriti sicuramente Jules Clusel che viene confermato nella Yamaha GMT 94 senza Maia e senza Lucatelli effettivamente Clusel è il numero uno favorito insieme obiettivamente anche al suo compagno di squadra Federico Caricasulo che ha già fatto un bel mondiale in Supersport nel 2019 l'anno scorso Superbike fatto molto bene purtroppo non gli ha rivalso la conferma e dunque torna indietro in un team comunque che parte sicuramente per vincere io terrei d'occhio anche Filippo Ettel che comunque ha già il secondo anno in Supersport e con il team di Puccetti ha già dimostrato di essere molto molto interessante sarà interessante vedere la coppia del team Puccetti in Supersport perché l'altro è Chan Onku fratello di Deniz in Moto3 e Chan vi ricordo essere uno dei piloti più giovani se non il più giovane esordire in Moto3 e vincere la stessa gara in quel di Valencia a gara ovviamente bagnata ci sono obiettivamente altri piloti che possono essere accreditati del possibile titolo del mondo io punterei un centesimo sullo svizzero Dominic Gerter che oltre ad alternarsi sulla MotoE va appunto a fare il campionato Supersport in un team molto interessante che è il Tenkater Racing Yamaha a fianco a lui c'è il pilota indonesiano Galangendra Pratama di fatto un altro semi esordiente dopo la stagione ridotta dell'anno scorso un altro pilota che potrebbe fare da outsider è il finlandese Nikituli sull'unica MV Agusta in questa competizione la moto italiana da tre moto dell'anno scorso ne schierò soltanto una ma è una moto interessante perché il finlandese è un pilota esperto di Supersport perché nelle prime tre gare della carriera fece tre podi in questa categoria attenzione al finlandese non lo vedo proprio in prima posizione per il titolo ci sono altri piloti più competitivi ma la MV Agusta in questa categoria ha sempre dimostrato di essere molto interessante altri piloti potenzialmente outsider cito Manuel Gonzales il campione più giovane della Supersport 300 ha dimostrato di essere già molto interessante in facile top 10 lo scorso anno si aspetta ovviamente dallo spagnolo un altro salto di qualità gli altri piloti per compagnare l'elenco c'è Raffaele De Rosa anche una volta in questa categoria uno dei piloti italiani più competitivi e più esperti di questa categoria va al team Orla Racing che l'abbiamo visto anche in Superbike lasciando MV conferma invece per Steven Odendall che va nella moto bicampione del mondo sia degli anni 20 sia dell'anno 2019 Steven Odendall obiettivamente con questa moto può effettivamente puntare anche lui al titolo sarebbe una tripleta incredibile per il team di Luca Evangelista che dunque si affida a un pilota esperto delle categorie di mezzo sudafricano Steven Odendall gli altri piloti di Yamaha abbiamo il polacco Powell Skopek sempre se si pronuncia così all'esortio assoluto così come esordiente Mark Alcoba mentre non è un esordiente Randy Krumenacher che ha avuto molto da dire l'anno scorso con MV e rientra in Super Sport con il team EAB Racing Team è un altro pilota che può essere sicuramente uno dei favoriti al titolo del mondo bisogna vedere come la sua costanza verrà compensata dalla sua testa di certo non proprio al massimo della categoria ci sono due italiani sempre su Yamaha per il team VFT Racing Federico Fuligni confermato dopo l'anno in MV e Davide Pizzoli che dopo una stagione anonima e disastrosa in Moto3 fa il salto e va nelle derivate della serie in 300 esordio per il team CM Racing con un San Marinese dunque per questo ha già tutta la mia stima del mondo ovvero Luca Bernardi che dunque va ad aumentare la destra dei piloti il team Caglio Racing conferma l'Eston e Hannes Sumer e lo affianca al giovane finlandese Verti Takala anche lui ha l'esordio assoluto degli altri partiti abbiamo detto completiamo l'elenco con Peter Sebastian pilota ungherese dell'esordiente Racing Team Hungary sempre su Yamaha Christopher Bergman rientra in Super Sport il pilota svedese dopo aver fatto due gare lo scorso anno e poi non l'abbiamo mai più visto c'è il ritorno di fiamma di Michel Fabrizio che a 36 anni trova incredibilmente un posto in Super Sport e corre con il team anche lui Puccetti per quanto sia una sponsorizzazione diversa ma comunque sempre parla della stessa famiglia chissà come si comporterà il numero 84 dopo tanti anni di stop in questa categoria chiude lo schieramento dei piloti regolari l'inglese Daniel Webb anche lui grande esperto al secondo anno consecutivo in questa categoria ci sono altre entrate invece sotto nell'elenco perché sono come dicevo le entrate del challenge europeo che appunto correranno soltanto le tappe nel nostro vecchio continente a partire da Luigi Montella che dopo aver finito incredibilmente ultimo con tutte le gare nella stessa categoria viene confermato nel team Chiodo Motor Racing c'è Maria Herrera che anche lei viene confermata ed è sempre un piacere vedere la pilota spagnola sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista tecnico Leonardo Taccini altro italiano della seconda moto del team Orlac Racing quindi compagno sport di De Rosa il team Alto Ghost che era Kevin Manfredi che tanto bene fece lo scorso anno infatti è campione europeo di super sport in carica rientra dalla finestra della super sport Thomas Gradinger che è un pilota austriaco molto promettente che purtroppo ha saltato la stagione scorsa nonostante un 2019 veramente suntuoso entrata anche per il pilota svizzero Stéphane Frossard su Yamaha del team Utah Vitesse e chiude Shogo Kawasaki che anche lui diventa compagno di squadra di fatto di Michel Fabrizio e obiettivamente su Kawasaki non poteva che correre un pilota con lo stesso cognome questi sono dunque le entry della super sport 600 chiudiamo velocemente con la terza categoria ovvero la super sport 300 che correrà soltanto su 7 gare per 14 eventi totali in un campionato veramente competitivo che ha come iscritti 42 piloti tutti dovranno fermare il campione del mondo in carico ovvero Jeffrey Buiz che appunto viene confermato nel team campione del mondo MTM Kawasaki per il pilota olandese che viene affiancato dai piloti con Mufus e Utah Kaia confermati viene arruolato Adrian Huertas lo spagnolo che appunto va a sostituire Scott Deru un altro che poteva essere un po' tendente al titolo che invece purtroppo si è ritirato è un bel successo questo super sport 300 perché ci sono 42 piloti i favoriti sono sicuramente quelli che ho indicato c'è anche Anna Carrasco che obiettivamente è un'esperta di questa super sport 300 e non bisogna mai tenerla fuori dai giochi così come questo pilota Tom Boothemus che si dimostrò l'anno scorso molto interessante e adatto a questo contesto ed è secondo me un duello interessante tra il campione del mondo Buiz la Carrasco e Boothemus sulla carta poi obiettivamente è una categoria talmente leggera che possono saltare fuori tanti piloti interessanti anche Mar Garcia potrebbe tornare obiettivamente alla ribalta lui che vinse la prima edizione e per non parlare di tutti gli altri piloti che abbiamo in questa linea di partenza ripeto sono addirittura 42 per tre case in realtà due e mezzo perché KTM ne ha soltanto una ovvero quella dell'olandese Viktor Steman che ha la terza stagione in super sport c'è qualche pilota che rientra dalla Moto3 vedi per esempio Vicente Perez che fece le prime fortune alla Tima Vintia per quanto riguarda la Moto3 ci sono tantissimi piloti italiani che però non dovrebbero avere al momento tante chance il più competitivo è sicuramente Thomas Brianti che viene confermato dopo un'ottima stagione lo scorso anno è stato il migliore degli italiani lo scorso anno e a lui viene affiancato un altro esperto della casacca della Super Sport 300 vero Hugo de Cancelis pilota francese con il numero 64 gli altri italiani da tenere d'occhio per cui fare ovviamente il tifo sono Alessandro Zanca che corre su Kawasaki Davis Bergamini che ha l'esordio assoluto Gabriele Mastorluca alla seconda stagione Brianti invece abbiamo detto esortisce Antonio Frappola per il team Chiodo Motor Racing che abbiamo già visto in Super Sport gli altri italiani curano tutte su Yamaha in questo di fatto bimarca un po' come la Moto3 che c'è KTM e Honda confermato Alfonso Coppola che evidentemente diventerà un esperto di questa Super Sport 300 gli altri italiani sono Kevin Sabatucci che è un former winner perché Sabatucci vinse una gara Don Indo Park affiancato a Mirko Gennai chiude l'elenco degli italiani Marco Gaggi che comunque fece discretamente per le sue potenzialità all'esordio assoluto lo scorso anno dunque anche con la 300 abbiamo concluso il nostro podcast di presentazione fatemi ovviamente sapere che cosa ne pensate in particolare sulla categoria regina la Super Bike dove il tema è semplicemente questo Ray andrà per il settimo titolo sarà in grado Ducati o Yamaha con Toprak di fermare il campione nord-inandese lo scopriremo nelle 13 gare della Super Bike che si dipenderanno da maggio a ottobre primo appuntamento 22-23 maggio in Spagna ad Aragon appuntamento invece con il canale sportivo sempre domenica alle ore 19 per il post gara della MotoGP Gran Premio di Le Mans il saluto da parte di Matteo Torgard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video Grazie.